Clarinetti Solari, antologia della poesia ucraina a cura di Dimitro Cistiak, è un'antologia che raccoglie sotto la sua copertina una cinquantina di poeti ucraini. L'obiettivo è quello di far conoscere al pubblico dei lettori italiani le tendenze contemporanee della poesia ucraina, a partire dal fondatore della nuova letteratura ucraina, Taras Shevchenko.